Sio Stok ciao a tutti, oggi voglio parlare di Luciana Lamorgese, del ministro dell'interno italiano della campionessa, come stiamo vedendo, di una politica immigrazionista che sta portando tante decine di migliaia di persone illegalmente sul suolo italiano, soprattutto in Sicilia, ma non solo. E andiamo a vedere l'intervista che ha fatto ieri a Il Fatto, questo giornale liberale, al direttore Cerasa, dove già dal titolo capiamo l'andazzo. L'amorgese, cara Europa, niente recovery fund, quindi fondi per la rinascita economica, possiamo dire, dopo la cosiddetta prima ondata del Covid, delle misure anti-Covid che hanno causato grandi danni, soprattutto in Italia, ai paesi che non collaborano, si legge, sui migranti, cioè in sostanza ai paesi del gruppo di vicegrad, quindi Ungheria, Polonia, Repubblica Cieca e Slovacchia, colpevoli di non volere le quote. Andiamo a leggere il sottotitolo. La redistribuzione dei migranti diventi obbligatoria non volontaria. Avete capito bene, cioè una nazione è obbligata, se vuole i fondi, una sorta di ricatto subdolo, a prendere gente arrivata quasi sempre illegalmente di culture, di etnie completamente diverse da quelle ungherese, polacche, eccetera, in cambio di soldi. C'è un ricatto legalizzato, un'Europa che si comporta come molti articoli ungheresi di molti giornali conservatori qui, un'Europa matrigna, un'Europa in stile sovietico. Sovietico perché centralizza tutte le decisioni, vuole togliere ogni tipo di sovranità, la nazione, sorpassare, sulclassare la nazione come nei migliori sogni di Shorosh per creare degli organismi che comandano dall'alto, magari con delle burocrazie, con delle tecnocrazie mai elette dai popoli europei come in Europa. La redistribuzione dei miranti diventa obbligatoria, non volontaria, perché ora è volontaria proprio sotto la spinta del gruppo di vicegrad in Europa. Cioè se io, governo nazionale, voglio prendere delle quote di clandestini arrivati clandestinamente in Europa, posso prenderli. Il MES per le spese sanitarie è giusto chiederlo. Io già mi immagino che le spese sanitarie intenda, quasi sempre, spese per chi deve fare la quarantena, per i test sui clandestini che arrivano in Italia e che arriveranno sempre di più, come la conferenza stampa dell'ONG tedesca CI ci ha detto, come vi ho fatto vedere ieri, grazie a nuove navi più grandi. E' anche un tema di sicurezza. Ah, non è un tema di sicurezza sbarrare la strada a chi vuole arrivare in massa a decine di migliaia, milioni magari nei prossimi anni, illegalmente in Italia e in Europa. No, no, caro ministro. Cambiare i decreti Salvini, il testo è pronto, quindi l'andazzo è chiaro. Poi queste persone sono le stesse che criticano i paesi del gruppo di vice, segnatamente l'Ungheria, per la libertà di stampa. Una ministra, ministro, lamorgese, che ha negato alla giornalista, sempre del Foglio, il racconto di entrare nello spot, come piace chiamarlo, cioè nel centro di Lampedusa, per fare un po' il riassunto di quello che sta, per dare la sua versione di ciò che succede, di come si accolgono, come scrive la stessa giornalista, i migranti in Italia. E' stato negato, il permesso, la richiesta è stata respinta, come scrive lei. Poi scrive, in una democrazia non dovrebbero esserci posti inaccessibili alla stampa. Però perché criticate subito l'Ungheria? Se una cosa simile succedesse in Ungheria, scoppierebbe subito il finimondo, tutti griderebbero alla dittatura, compreso il Foglio, compreso il Foglio. Lo fa lamorgese? Tutti zitti. Comunque, adesso vi do la versione ungherese di questa intervista, il Foglio, tramite un articolo di Modior Nemzet, che è uno dei principali giornali conservatori ungheresi, e titola Un nuovo metodo subdolo per far cambiare opinione a Visegrad sul tema immigrazione. Sentite l'aria quanto è diversa? Poi, il ministro dell'interno italiano vuole sanzionare chi non accetta le quote di redistribuzione, negando loro i fondi per la ripartenza economica. Sentite questo virgolettato della ministra, al giornalista Cerasa del Foglio. So che i quattro del gruppo di Visegrad, quindi anche l'Ungheria, hanno una posizione diversa, ma l'UE è in un'epoca di grandi svolte e ci vuole responsabilità per trasformare i piani europei in realtà. I piani europei. I piani europei dunque sono quelli di trasformare le società europee, i popoli europei, in popoli multietnici, mescolati etnicamente, quindi creare gli Stati Uniti d'Europa, quindi Stati Uniti d'America in Europa. Allora ho ragione quando dico che uno degli obiettivi della pane Europa, come nel piano Calergi, nel piano Soros, è quello di mescolare i popoli europei, distruggerli etnicamente, identitariamente. Gli accordi di Malta hanno permesso da settembre scorso più di 1200 ricollocamenti volontari dall'Italia verso Germania 238 e Francia 369. Da inizio anno in Italia gli arrivi illegali sono circa 20.000 ufficialmente, come scrive il giornale. Dunque la penisola nei piani europei è un filtro per la sostituzione graduale ai popoli europei. Dei 6.300 tunisini poi negano l'invasione, questo negano la sostituzione etnica graduale degli italiani, anche degli italiani. Dei 6.300 tunisini arrivati tra luglio e agosto in Italia, migranti economici, come piace chiamarli alla ministra, con un perfetto politicamente corretto, solo 400, scarsi, scarsi, sono stati rimandati al di là del Mediterraneo in Tunisia. La Morgese dice che potrebbero essere rimpatriate ogni settimana 80 persone secondo gli accordi. Ovviamente non farà mai rimpatri di massa del genere, scordiamocelo. L'8 settembre a Trieste dice che terrà dei colloqui per parlare di rotta balcanica. Chissà se discuteranno, discuterà la ministra, delle proteste anticlandestini di Biac in Bosnia-Herzegovina, come ci racconta questo servizio di M1 di qualche giorno fa della televisione pubblica ungherese, o dei tre tunnel, dei tre tunnel sotterrani sotto alle barriere ungheresi tra Ungheria e Serbia, trovati in un solo giorno dalla polizia e dall'esercito ungherese. Vedete, a Kochmar, a Cicherio e a Kelebio, quindi in tre posti prima della Voivodina, nella Serbia del nord. Mauro Palma, garante dei diritti individuali della libertà personale, ci dice l'articolo di prima, termina così l'articolo di prima di M1 di Hornemset, giovedì ha raccontato di 84.000 immigrati nei centri italiani. Il pericolo per lui è che la gestione non permette, la congestione, meglio, la gestione strana, caotica, la congestione non permette il rispetto dell'enorme anticontagio, così come le frequenti proteste nei centri. Avete capito bene? Il punto non è fermare, il punto è che tutti danno per scontata la presenza di illegali, di persone arrivate illegalmente in Italia che poi devono essere sparpagliate in tutta l'UE e questo, questo è, sono i piani, sono i piani dell'Unione Europea. Vi rendete conto da chi è comandata l'Unione Europea, da chi è comandata l'Italia oggi? Ecco, non dico altro, non dico altro. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo, iscrivetevi e se potete e volete fate una donazione anche mensile e anche tramite la nuova funzione abbonamento qui sotto vicino al tasto iscriviti. Alla prossima, vi slat, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.